Ambetato Romani è stata pizzicata proprio con lui e in quel contesto non c'era traccia di Maria De Filippi, per molti è stata considerata una mancanza nei suoi confronti. Ma cosa sarà successo? La grazia e lo stile di Ambetato Romani le conoscono tutti, in quanto è la famosa ballerina albanese diventata celebre in Italia grazie alla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, Amici. Era il 2002 quando entrò a far parte degli allievi del programma, e da allora l'affetto del pubblico è sempre stato caloroso. In quell'anno arrivò seconda, ma da quel momento partecipò per diverso tempo in veste di ballerina professionista ad Amici, tornando anche negli ultimi anni in veste di giudice e proseguendo la sua attività in vari contesti importanti. I fan la seguono sempre, per questo non è passato inosservato quello scatto di lei in compagnia di lui e di Maria non c'era traccia. In molti l'hanno visto come un tradimento, ma sarà veramente così? Ambetato Romani e le parole su Maria De Filippi. Ambetato Romani, qualche tempo fa ha rilasciato una profonda e sentita intervista a Verissimo nella quale si è confidata a cuor leggero ai microfoni di Silvia Toffanin. Ha parlato un po' di tutto, dal suo trasferimento in Italia, all'amicizia con Cledi, il quale le ha fatto conoscere amici, fino all'amore per il suo lavoro e per suo marito. Per quanto riguarda Cledi Cadio e Maria De Filippi, ha speso parole di profonda gratitudine e amicizia, rivelando che entrambi le hanno, cambiato la vita. Inoltre, in merito al marito Alessandro Macario, ha rivelato, è un uomo molto dolce. Ci auguro di rimanere così come coppia. Non di più, né di meno, abbiamo tutto. Ambetato Romani, suo marito Alessandro Macario e Cledi Cadio, si siano trovati qualche tempo fa insieme al ristorante davanti ad un gustoso piatto di pasta con le vongole. Molti fan hanno espresso il loro malcontento rivelando che il quadretto sarebbe stato perfetto se ci fosse stata anche Maria. C'è da dire che in primis la conduttrice magari era impegnata e secondo Ambetta e Cledi sono molto amici, quindi non c'è nulla di male se passano del tempo assieme lontano dai riflettori di amici. A prescindere da quelle critiche inutili, il trio ha fatto bene a passare quel momento in armonia, non credete?